Il Premier ha affrontato con fermezza i temi che rischiano di creare una spaccatura con Salvini. Questo governo va avanti. Mario Draghi lo dice con fermezza per far capire ai partiti che in una fase ancora così delicata, con la campagna vaccinale da completare e le scuole da riaprire, in presenza e in sicurezza, non accetta veti, barricate o smarcamenti sulle decisioni cruciali della lotta al Covid. La mossa della Lega, che due giorni fa nella Commissione ai Affari Sociali della Camera ha provato ad affossare il Green Pass, ha fatto scattare l'allarme rosso a Palazzo Chigi. E se in conferenza stampa Draghi ha scelto toni cauti e diplomatici, nel merito ha confermato in pieno la linea del governo sulla certificazione verde. E si è spinto oltre, dando il via libera all'estensione del Green Pass per la pubblica amministrazione e le imprese private annunciando che l'Italia è pronta a far scattare l'obbligo vaccinale. In un sol colpo il Premier ha allargato il perimetro del certificato verde osteggiato dai leghisti, ha buttato giù un totem del carroccio come il no all'immunizzazione obbligatoria e annunciato la partenza delle terze dosi. Scelte forti, che vanno in direzione opposta alle battaglie di un Salvini allergico a obblighi, multe e discriminazioni. E se mai nella Lega qualcuno ha strizzato l'occhio al popolo Novax. Draghi picchia duro contro la violenza odiosa e vigliacca, di quanti attaccano e minacciano per opporsi al Green Pass. Il certificato verde sarà esteso e i dettagli si decideranno in quella cabina di regia che Salvini ha richiesto, ma l'esito è scritto. La direzione di marcia è quella, ha ammonito il Premier prima ancora di sedersi al tavolo, spiegando Serafico che la rotta è stata decisa con Roberto Speranza teorico del rigore assoluto. Draghi tira dritto e chi ci sta, ci sta. Grazie per la visione!